E con estremo piacere che questa sera presento Manuel Villas che l'Italia conosce molto bene dai tempi in tutto c'è stata bellezza, un romanzo che è esploso nel nostro paese con un successo di vendite straordinarie, una quantità di reedizioni altrettanto straordinarie e questo romanzo è il romanzo che ha introdotto Villas in Italia. Villas in realtà ha una formazione di poeta e infatti grazie al grande successo di questo romanzo sono poi state tradotte sempre da Gwanda che è la casa editrice che la accompagna da quando ha avuto questo straordinario successo in Italia Gwanda ha deciso di pubblicare anche una raccolta di poesie e chi già lo conosce si accorgerà che la scrittura di Manuel Villas è una scrittura estremamente poetica e visionaria. Infatti non a caso in quest'ultimo lavoro il titolo Amor Costante deriva proprio da un grande poeta barocco che vedo e il filo che la relazione che Villas intrattiene con questo poeta è molto sottile e anche di grande ambiguità bisogna dire. In breve io non voglio rivelarvi il contenuto di questo romanzo ma vi darò solo alcune brevissime note. Si tratta di una donna di nome Irene la quale perde il marito l'amatissimo Marsello Marse che lei e questo è il nome che ricorre continuamente nella sua testa e lungo tutta la narrazione il lettore seguirà il vagabondaggio di Irene per lussuosissimi alberghi lungo il Mediterraneo alla ricerca in qualche modo di una come dire di un contatto con questo grande amore perso. E la prima domanda che volevo fare a Manuel è riguardo all'inconsistenza del proprio passaggio nel mondo perché è quello che Irene nel cuore del romanzo in qualche modo viene a conoscere l'inconsistenza del mondo. Consistenza del mondo che è anche si ritrova in tutto c'è bellezza quindi questa inconsistenza questa impalpabilità che lei trova intorno a sé è la molla che la spinge ad avere un rapporto estremamente sensuale con il reale e volevo chiederti appunto che tipo di inconsistenza è questa. Buonasera contento di stare qui a parlare in spagnolo perché non parlo l'italiano. Allora, tutti i esseri umani abbiamo davanti questa inconsistenza che siamo, perché moriamo, perché vediamo a nostri padri a morire, che significa vivere, che facciamo in questo mondo, come conseguire che la tua vita tenga sentido. Io credo che questo ci passa a tutti. Le risposti sono distinti, però di un ser humano si che percebe che la vita può essere inconsistente, che può non aver sentito. Irene, la protagonista, pensa che la forma di che la vita sia consistente è, tutti stiamo d'accordo, con l'amore, con l'amore, con l'amore a un altro essere umano. Buon pomeriggio a tutti, parlerò in spagnolo. Diciamo che tutti gli esseri umani percepiscono questa inconsistenza in qualche momento. Tutti ci siamo chiesti chi siamo, perché moriamo, perché vediamo i nostri genitori morire, cosa significa la vita, che conseguenze, che senso ha a vivere. E questo è capitato a tutti prima o poi. Poi chiaramente ognuno si dà delle risposte diverse, però è un fatto, questa sensazione che ogni essere umano prima o poi percepisce, questa inconsistenza, questo no senso della vita. E Irene, la protagonista del romanzo, pensa che un modo di rendere la vita consistente è attraverso l'amore, attraverso l'amore verso qualcun altro. Il romanzo è composto da due velocità, secondo me, come costruito all'inseguimento di due diversi moti. C'è il moto dell'autoriflessione di Irene e poi ci sono questi incontri che sono reali o chissà, che hanno dei capitoli proprio che si intitolano appunto Innamorata del vento 1, Innamorata del vento 2, Innamorata del vento 3, eccetera. Mi sembrava molto interessante la scelta di come tu hai strutturato il romanzo, nel senso che tutto quello che è la memoria, tutto quello che si porta dietro Irene è un flusso, mentre invece c'è una presa diretta nel momento in cui Irene si ferma nelle sue stazioni, da un albergo all'altro. Ecco, come hai pensato appunto? Perché di questa struttura? La struttura della novela è molto classica, è una road movie, è una novela, un romanzo di carretera. Irene ha perdito a suo marido, si ha quedato viuda e decide emprender un viaggio come catarsis o come maniera di expresare il suo dolore e a la vez di fare qualcosa che le fa olvidare lo che ha vivuto. Emprende un viaggio. Io credo che questo, viaggiare, è una delle forme di attività più primitiva di un ser humano. Si di repente ha passato qualcosa in mia vita e la maniera di enfrentarlo è a través di un viaggio. Il viaggio la va a cambiare, a ella, va a experimentar una serie, va a tener una serie di encuentri amorosi, che è una delle parti più complesse della novela. E a través di questi encuentri amorosi con hombres, vamos a ir viendo il passato di questa mujer. In realtà, tutta la novela è dedicata a conoscere l'alma di una mujer, una mujer che vuole due cose nella vita, due cose che mi parecano meravigliose, vuole la plenitud e vuole la libertà. Una mujer di 50 anni che si rende a cuenta di che deve seguir vivendo, pese alla perdita di suo marido. La struttura del romanzo è un romanzo classico, si può definire anche un root movie, un romanzo sulla strada, in viaggio permanentemente. Irene, la protagonista, è una vedova appena perso il marito e decide di intraprendere un viaggio come un modo per esprimere il proprio dolore, per fare un qualcosa, per riuscire a dimenticare tutto quello che è stato il suo vissuto. In realtà, viaggiare per tutti è un'attività un po' primitiva. A chiunque di noi, se ci capita qualcosa, si decide sovente di fare un viaggio per cambiare, per dimenticare. Il viaggio cambia anche Irene. Lungo questo viaggio, lei ha tutta una serie di incontri amorosi, sensuali con altri uomini e attraverso questi uomini lei rivive un po' il suo passato e anche il metodo, il motivo per raccontarci qual è stato il suo passato con questo uomo. Anche per lo scopo un po' del romanzo è quello di conoscere l'anima di una donna che in realtà quello che vuole questa donna è vivere due cose, due cose meravigliose. Da un lato la pienezza della vita e dall'altro la libertà. È una donna che ha 50 anni e che ha voglia di rimanere ancora viva, di andare avanti. Sì, Irene è una donna bellissima. È una donna alla quale non si può resistere. È bionda, ce la immaginiamo, bionda con un corpo ancora assolutamente giovanile, perfetto. Il tempo non l'ha segnata. Infatti tu dici proprio in apertura di romanzo, Irene è un angelo. Irene è un angelo sessuato e questo via via lo conosciamo lungo il corso della narrazione e come si diceva Irene muta. Il lettore è disorientato di fronte a questo personaggio perché inizialmente si ha l'impressione che Irene debba in qualche modo elaborare un lutto ma via via nel lettore a metà romanzo viene il sospetto che ci sia anche qualcos'altro in questa ossessione di Irene per altri corpi. Normalmente sono tutti giovani, sono tutti belli. Insomma ti chiedi dove sta la crepa, dove sta la proiezione di Irene e dove è la realtà. Ecco, io volevo chiederti perché hai voluto disorientare così il lettore? Perché questo personaggio da angelo quasi lottiano, sembra un dipinto di lotto, via via si trasforma in una forma quasi demoniaca? Beh, è un personaggio di novela. Lo primero che hai che dire di Irene è che è un personaggio di novela. Lo personaggi di novela, come Madame Bovary, Don Quijote, facendo cose che noi non faremmo, io non faremmo lo che fa questa moglie, non faremmo lo che fa Don Quijote di La Mancia, ma mi piace leggere una novela dove c'è un personaggio che fa queste cose, che si sape di la normalità. Alla non fa cose che non sono normali. De hecho, il primo capítulo si può raccontare senza fare spoiler. Alla viaja di Madrid a Málaga, a Málaga si hospeda in un hotel stupendo, un hotel meraviglioso. Sube a la terrazza per cenare, all'alli ve un hombre che le gusta, che sta esperando a vedere se ese hombre sta cenando, se ese hombre sta esperando a una mujer, però ve che il hombre inizia a cenare, e, per consiente, deduce che sta solo. A te può gustare un hombre o una mujer, però necessitas oire come parlano, perché, di repente, al oire parlare a qualcuno, questo enamoramento può desaparecer. Según la voce, segun la voce. Ella se levanta, va hacia este hombre, il hombre se cree che se conosce di qualcosa, lui se levanta anche, pregunta, quindi lei oye la voce del hombre e dice questa voce me gusta, è come se passara un examen. E quindi le dice la 14-16 e se marcha, e se marcha. E, claro, io quando scrivìa questo, mi accanto, perché era era una forma di poder femenino tremendo. A los 10 minuti ella sabe che ese hombre va a estar in la habitazione chiamando a sua porta. Efectivamente, ese hombre a los 10 minuti sta chiamando a sua porta della habitazione e ella otra vez vuelve a tener un altro momento inmenso di poder, perché può decidere a abrir o no a abrir la porta. Su decisión è absoluta, radical, come se di repente poseyera tutto il poder del mondo e quindi abre la porta. Ella è una mujer, io pensé me sto... Sì, sì, sì. Havia una cosa che a mi mi importava molto che era che edad tenia che tenere questa mia. Io credo che la bellezza fisica in un hombre-mujer da lo stesso non è sufficiente. Non è sufficiente. Un hombre atlético, una mujer molto guapa e tal, questo non è sufficiente per parlare di bellezza. Tiene che aver esa cosa misteriosa di aver vivito. per questo ti ha 50 anni. Perché una persona di... un hombre-mujer di 30 anni, può essere molto guapi, molto attrati, però non hanno vivito. Quindi, io pensé che 50 anni era la edad perfetta lo tiene, sino per estas arrugas, per questo pequeño envejecimiento che muestra il suo rostro frutto di che già ha vivido. Quindi ella si inventa una... Adesso sì, adesso sì. Perdono, empiezo a parlare. Comunque, un personaggio di romanzo, romanzato, a me piacciono questi personaggi come Madame Varie o Don Quixote, perché loro fanno delle cose che noi nella vita reale non faremo mai, che io almeno non farei mai, no? E invece Don Quixote o questi personaggi lo possono fare. E a me piace leggere proprio quando questi personaggi fanno queste cose che io non farei, che fanno delle cose che si escono dalla normalità. E lei, Irene, la protagonista, nel primo capitolo, ve lo dico, non è uno spoiler perché tanto è subito all'inizio, incomincia, rimane vedova, incomincia questo viaggio tra Madrid e Malaga, arriva e prende una stanza in un albergo meraviglioso e decide di andare su all'ultimo piano dove c'è un terrazzo che si vede il mare e c'è il ristorante per cena, no? E là vede a un tavolo un uomo, un bel uomo che le piace e che è lì e lei all'inizio non capisce se è da solo, se sta aspettando qualcuno, poi capisce che è da solo perché gli arriva da mangiare, incomincia a mangiare da solo e allora decide di alzarsi e andare verso questo, verso questo uomo, no? Però dice devo sentire la sua voce perché non è soltanto così, a vederlo mi piace ma magari poi la sua voce non mi piace e quindi può sparire, questo capita a tutti noi, no? Magari ti piace una persona, poi la senti parlare e dici no, no, per carità sparisce questo innamoramento. Allora si avvicina e l'altro, l'uomo si alza dicendo ma magari la conosco e insomma si mette a parlare e dice mi piace anche la sua voce e allora ha superato l'esame e gli dico soltanto 1 4 1 6 e se ne va il numero della sua stanza. Quando ho scritto questo passaggio veramente mi è piaciuto tanto, mi sono divertito perché ho visto in questo una forma evidente del potere femminile che ha questa donna in questo momento. Lei se ne va e trascorrono dieci minuti e sa che sta per suonare alla porta e quindi anche qui, cosa che effettivamente succede, mi suona la porta e lì è un momento veramente immenso di potere, no? Perché lei può decidere apro o non apro e la sua decisione qua è assoluta, è radicale, il potere totale e decide di aprire. Poi un'altra cosa mi interessava anche molto l'età del personaggio, qual'età dovevo dare a questo personaggio? Per me la bellezza fisica delle persone non è sufficiente tanto negli uomini come nelle donne, ci vuole anche questo alone di mistero che ce l'abbiamo solo quando abbiamo un vissuto alle spalle, per quello ho deciso che questa donna doveva avere 50 anni perché si era bellissima ma non era sufficiente. A 30 anni sì uno può essere bellissimo, un uomo bellissimo, una donna bellissima ma manca il vissuto e 50 anni invece l'età perfetta perché c'è il vissuto ma la bellezza dell'esperienza che ti dà la vita. Ci sono anche le rughe, le rughe sono molto belle perché rispecchiano che c'è un vissuto dietro di te. E lei piace a tutti, ovunque passa, tutti si girano a guardarla perché ha oltre alla sua bellezza, ha queste piccole rughe del suo invecchiamento che che piace. Sì ho pensato molto e sono arrivato a questi 50 anni perché sì Dante è vero che nella Divina Comedia diceva nel mezzo del cammin e parlava di 35 anni ma era nel medioevo, oggi invece nel bel mezzo del cammin sono i 50. Ecco, perché hai speranza a tutti che abbiamo più di 50. Quindi per tutti quelli che abbiamo più di 50 c'è ancora speranza. Ecco diciamo appunto una donna matura quindi, una donna matura e che sa anche usare benissimo le arti della seduzione perché Irene è una donna curatissima, una donna che ha il gusto per il bello, per il lusso, infatti sceglie un'automobile potentissima e sceglie gli alberghi secondo appunto tutta una serie di criteri, di arredo eccetera, anche perché arriva da un'esperienza che le ha insegnato Marseille appunto, nell'arredo Marseille in realtà poi ha un negozio di mobili, i mobili per tutti, questo negozio dove loro poi si incontrano e poi da lì parte appunto la loro storia d'amore. Ecco quindi c'è questo mondo anche di arredi a cui tu guardi, è un mondo di oggetti, quindi gli arredi e soprattutto quello che mi ha colpito tantissimo gli orologi. È una costante di tutto il romanzo, gli orologi Irene regala un certo orologio a Marseille per il matrimonio. Irene cambia continuamente orologio a seconda degli incontri erotici che per cui si sta preparando. In finale romanzo Irene cambia di nuovo orologio ed è sola in quel momento. Ecco e Irene nota gli orologi al polso dei suoi amanti perché in qualche modo la illuminano anche sul carattere no? E il costo. Ecco questa follia indagatrice proprio sugli orologi perché? Perché questo elemento, queste costante? E questo sì se lo ho dato io al personaggio, perché è una obsesione mia. Questo non vuol dire che Irene sia autobiografico, che non lo è, però in questo del reloch sì. Bueno, ella pensa che che gli esseri umani siamo tempo, tutti siamo tempo, però quando tu ti levantas per la mattina, no, digamos, la vivencia del tempo non è una categoria filosofica che dicano. Non mi dicano, sto vivendo la metafisica aristotélica del tempo, il grave problema filosofico dei esseri umani è il tempo, così tu non vives il tempo. Tu il tempo lo vives di maniera familiare e quotidiana a través di un reloch di pulsera. A le 9 da mattina tengo che stare lavorando, a le 11 tengo che andare a vedere al dentista, a la 1 tengo una comida con non se chiun, a le 5 tengo che andare a buscar a mio figlio al colegio e tutto va ocurriendo en tu reloch de pulsera, que es el que mide el tiempo. Irene dice lo siguiente, si somos tiempo y medimos nuestro tiempo de manera cotidiana en un reloch de pulsera, que ese reloch de pulsera sea un pequeño altar, que haya una gran belleza en el reloch de pulsera. Viene a decir que no es lo mismo las 9 de la mañana en un Rolex que en un Casio. Ha habido, no sé si aquí ha triunfado en Italia una canción de Shakira, es conocida Shakira en Italia. Bueno, ella se divorció del futbolista Piqué y escribió una canción en donde Piqué se buscó una novia, una financiata. Sí, financiata. Y Shakira vio la financiata de Piqué y le pareció que no valía nada. Ella era mejor. Entonces la canción dice, yo era un Rolex y tú te fuiste con un Casio. Entonces es una manera de dibujar a través del capitalismo el valor de las cosas. El valor de las cosas. Entonces en la novela hay muchos momentos donde los objetos adquieren un valor simbólico. El mismo que tienen en la realidad. Lo mismo pasa con las máquinas. Ella siempre quiere máquinas excelentes. Quiere rodearse de lo mejor. Yo siempre en mis novelas intento explorar el misterio del capitalismo. Y aquí es a través de los objetos. Que por otra parte hay estos objetos. Hay un tema al fondo. Es el tema de qué ha pasado con la belleza en este mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el lujo ha acaparado la belleza, ha robado la belleza. Ya solo en el lujo podemos encontrar la belleza. Entonces todo eso se plantea en la novela. La fricción entre lujo y belleza. Sí, los orologos. En realidad, los orologos son una mi obsesión. Entonces el libro no es autobiográfico. Yo no soy Irene. Pero he trasferido esta mi obsesión para los orologos. En el fondo porque voy a trabajar a esta hora. Puedo ir al dentista. Puedo ir a un pranzo. Puedo ir a prender mi figlio a scuola. Y todo esto lo hago con... Guardando el mi orologio da polso. Por lo que Irene piensa. Si noi siamo tempo e il tempo lo misuriamo con il nostro orologio da polso, è importante che questo orologio sia bello, perché è quasi come se fosse un piccolo altare, no? E quindi la bellezza ci deve essere in questo oggetto per forza. E chiaramente è molto più bello un Rolex di un Cassio, no? Almeno si dice lei. E non so se qui si conosce, conoscete Shakira, no? Questa cantante che era la moglie di Epiqué, un giocatore del Barça, del calcio. Si sono divisi, si sono separati. Lui poi ha trovato una nuova fidanzata, anzi l'ha lasciata perché aveva trovato un'altra fidanzata e lei poi l'ha vista chiaramente nelle riviste. Quando l'ha vista ha scritto una canzone dicendo, pensando io sono molto meglio di lei, no? Dicendo hai cambiato, sei stato un cretino, hai cambiato un Rolex, cioè lei, per un Cassio, la nuova fidanzata. Insomma, il tempo è questa maniera di, attraverso gli orologi, come faccio anche attraverso le macchine e altri oggetti, per me è un modo di descrivere il capitalismo, il valore delle cose, il valore che il capitalismo attribuisce alle cose. Attraverso gli oggetti, quindi un valore simbolico, no? Quindi orologi, macchine di lusso, che a Irene piacciono molto, no? Tutte queste cose. In questo romanzo io, lo faccio un po' in tutti i miei romanzi, ma in questo in particolare ho cercato di esplorare i misteri del capitalismo attraverso gli oggetti. Per arrivare anche un po' verso la fine a questa conclusione, no? Di dire cosa è successo poi con la bellezza in questo mondo. Vuol dire che solo quello che è lussuoso è bello? Quindi un po' questo incontro, scontro tra lusso e bellezza, se la bellezza ci può essere anche nelle cose che non siano lussuose per forza. Una cosa più. Il reloce, il reloce, hai due clasi di reloce, il di cuarzo, è il le habitual, e il meccanico. Irene solo quiere reloce meccanico. Perché? Bueno, aparte che è evidentemente il reloce, come Dio manda, è il meccanico. Però lei fa una observazione molto buona. Il reloj di cuarzo, il segundero salta di un secondo a un altro secondo. Il reloj mecânico, il segundero entra in ogni secondo. E lei, di questo, construye una teoria quasi existenzial. Io voglio che fino alle millesime di secondo di mia vita sia intensa e le mida il reloj. Quindi il reloj di cuarzo non mide, non mide le millesime di secondo. Allora, lei si muestra come una esteta che vuole vivere fino alle minime quantità di tempo che si midono i reloj meccanici. C'è ancora da aggiungere qualcosa sugli orologi. Ci sono due tipi di orologi, come sapete, quelli al quarzo e quelli meccanici. Quelli al quarzo sono quelli normali, quelli meccanici fanno schifo in definitiva. Irene fa un'osservazione molto bella nel libro e dice che cosa succede con gli orologi al quarzo? Che la lancetta dei secondi salta da un secondo all'altro, no? Invece negli orologi meccanici la lancetta ha una continuità tra un secondo e l'altro. E quindi da questo fatto lei crea quasi una teoria existenziale, no? Perché lei dice io voglio che persino le millesime di secondo del mio tempo vengano misurate e siano intense. E come possono essere intense con un orologio al quarzo che questi secondi saltelano da uno all'altro, no? Perché lei in realtà è un esteta, tutto quello che è bello, insomma, per lei è importante. Io tengo un amico relojero, tengo un'amica relojera, e le conté questa teoria, e pensò che io stava loco. Ho un'amica che fa l'orologia di mestiere, io le ho raccontato questa mia teoria, mi ha detto ma tu sei pazzo. Però, sin embargo, è verrà. Tuttavia è vero. Una cosa più, questo è molto divertito, molto divertente, è che lei sabe, Irene sabe del reloj, quindi mira il reloj dei uomini con cui si accesta. Quindi, come entiende di reloj, a través del reloj del uomini con cui si accostava, sabe il status sociolaborale, socioeconòmico di ese siano. Se accosta con un siano che ha un swatch, e sape che i siano una horcilla di prezio di 80 e 220 euro. Quindi, già sape con che tipo di persone, con che tipo di persone, con che tipo di hombre si accostava. Se accosta con un altro che ha un tisot, un tisot è un poco più caro, va di 200 a 600 euro, già è un po' più, già mi ha buscato un amante un po' più pudiente. Mide a los hombres a través de los relojes che utilizzano. Ancora un'altra cosa molto divertente, è che Irene capisce molto di orologi, li conosce tutti, e guarda sempre, per prima cosa, l'orologio che ha il polso, l'uomo con cui va letto. Dato che ne va letto con diversi, guarda un po', e da lì capisce qual è lo status socioeconomico di questi uomini. Uno di questi aveva uno swatch al polso, dice, lo swatch tra 80 e 220 euro. Un altro aveva un tisot, che è già un pochino più caro, tra i 200 e i 600 e così via, quindi lei capisce un po' lo status economico dell'uomo con cui va letto attraverso l'orologio. Adesso volevo spostare l'asse un po' su altri personaggi, perché non c'è solo Irene in questo romanzo. Cioè è vero che è una figura dominante, però ci sono tanti altri personaggi altrettanto importanti. Primo di tutti ovviamente è Marcelo. Marcelo che ha poi uno spazio anche suo personale all'interno del romanzo, quando è lui a raccontare la sua Irene, la sua storia, la natura della relazione che lo lega a sua moglie. E poi c'è il ricordo del padre, Tori, che è un ricordo del padre di Marseille, che accompagna Marseille sempre e che in qualche modo va a nutrire anche la storia d'amore tra Irene e Marseille. E poi c'è una figura invece, che è una figura un po' sorsiera, un po' streghesca, insomma, che è questa Alicia che è la nonna invece di Marseille, che quando conosce Irene ne ha una pessima opinione, no? E che in qualche modo pensa che questa donna potrà essere un po' una deriva per il suo adoratissimo nipote. Ecco, tutti questi personaggi che poi vengono a galla durante il road movie, questo specie di film che si srotola, no? Ecco, nessuno di loro fa parte della vita di Irene, no? Sembra che il portato vitale venga più da Marseille che da Irene, perché noi solo alla fine sappiamo poi qual è il passato di Irene. Noi di Irene non sappiamo niente, no? Sembra che sia arrivata all'incontro con Marseille quasi senza ricordi, no? Come una tabula rasa. Ecco, questo perché? Perché in qualche modo Irene diventa una funzione di Marseille o viceversa? Qual è il rapporto reale che lega questi due coniugi così che un matrimonio che non se ne danno a questo mondo? Cioè dopo non so quanti anni di matrimonio tra di loro la pulsione erotica e ancora delle accensioni straordinarie, addirittura sadomasochistiche. Cioè comunque ci sono proprio degli aspetti in intensità quasi fuori dal reale, insomma. Che tipo di equilibrio c'è tra queste due persone? Sì, è una domanda molto importante questa. Tiene che vero con il origine della novela. Io cominciai a scrivere questa novela motivato per un problema che io vedo nel mondo. In realtà un scritto non esiste il tema. È la vita che ti impone i temi. Ci sono un conflitto nella vita che è la intensità del amor e il tempo. Inele creerà aver vivito un matrimonio perfetto che durò 20 anni. 20 anni. Io vorrei planteare al lector una ipotesi quasi utopica. Può existire un matrimonio, una relazione di parella, non importa il sexo, che dure 20 anni e che a lo largo di questi 20 anni non decai per causa della convivencia, della routine, eccetera. Es decir, 20 anni in cui tutti i giorni hai entusiasmo, hai plenitud, hai alegria, hai ganas di stare l'uno con l'altro, per dicerlo di una maniera expresiva. 20 anni di matrimonio in cui facen il amor tutti i giorni. Io, quando stava con questo argomento in la cabeça, al principio della scrittura della novela, ho faccio un viaggio nel tren Madrid-Barcelona e all'alli me encontrò con un amico mio della infanzia, un amico della mia terra, che è Aragón, una regione di España, dove abbiamo un sentito del humor molto forte, molto intenso. E mi amico mi dice, bueno, bueno, che stai scrivendo e tal. E le dico, sto scrivendo una novela di amor, un matrimonio, 20 anni di matrimonio, in cui facen il amor tutti i giorni. E mi amico le cambiò il rostro. 20 anni facer l'amore e io ti dico qui sta passando qualcosa e mi dice come si titula la novela e io non ho non ho capito in quel momento la verità è che ora non ho capito e mi dice non ti preoccupi io ti doi il titolo e io, qual? il milagro quindi comecei a darmi cuenta della difficoltà che ibano a tener qualche lector per admitir la verosimilitud di questo e quindi empecei a creare una serie di grietas nella storia che vanno indicando al lector che a lo mejor questa utopia è questo una utopia in qualche caso io questo se lo planteo al lector è un tema importante la esperienza dei esseri humani perché un amor intensissimo perché il amor non può durare più io credo che il amor intenso il amor appassionato il enamoramento il sexo il erotismo perché non dura più perché perché envejece perché se oxida questo ha fatto sofrir a molta gente e va a seguir sofrir a la gente la gente se enamora perdidamente viven 3-4 anni di enamoramento potente però dopo il innamoramento comincia a oxidarsi a gastarsi quindi volevo trattare questo tema perché mi sembra che è un tema che importa alla gente è una domanda molto importante e ha a che vedere anche molto con l'origine del mio romanzo io avevo incominciato a scrivere questo romanzo motivato per questo problema che io vedo che c'è nel mondo perché bisogna dire che uno scrittore non sceglie gli argomenti su cui vuole parlare è la vita stessa che ti impone questi argomenti e c'è un conflitto nella vita di tutti la intensità dell'amore e il tempo e Irene crede che il suo amore è un amore perfetto che dura vent'anni rimane vent'anni sposata con questo uomo ed è un amore veramente quasi utopico per il lettore perché è una coppia è quasi impossibile che una coppia qualsiasi di qualsiasi che siano sposati non siano sposati indipendentemente dal sesso uomo donna uomo uomo quello che per vent'anni non si cada in una routine la routine della convivenza di tutti i giorni e invece il matrimonio di Irene sono vent'anni di gioia voglia di stare insieme per dirle in poche parole di fare l'amore tutti i giorni e quando io stavo pensando avevo questo argomento nella mia testa per sviluppare per scrivere il mio romanzo ho fatto un viaggio in treno Madrid-Barcellona e lì ho trovato un mio amico un vecchio amico della mia terra del mio paese io sono della regione dell'Aragona e noi siamo conosciuti perché avevamo un senso dell'humor molto particolare molto intenso allora il mio amico mi dice ma cosa stai scrivendo adesso io dico ma un romanzo che parla d'amore si tratta di una coppia che sono stati sposati per vent'anni con questo amore molto intenso insomma fanno l'amore tutti i giorni tanto per dirti allora quando dico questo il mio amico cambia l'improvviso faccia mi guarda così mi dice ma qual è il titolo di questo romanzo io allora non avevo ancora non avevo ancora deciso il titolo dico ma non lo so ci devo ancora pensare dice non ti preoccupare te lo dico io il titolo Il Miracolo e questo per dire che è veramente difficile anche per il lettore poter immaginare che sia verosimile un'istoria d'amore così intensa e così lungo il romanzo ho incominciato a creare delle fessure nelle storie che raccontano per dare qualche indicazione per orientare un po' il lettore a pensare che effettivamente questa è una utopia quindi io lo lascio lì che poi si possa pensare che un amore così intenso possa durare per tanto tempo con tutto questo erotismo non è possibile le relazioni purtroppo si arrugginiscono e questo è un problema sul quale quasi tutti noi abbiamo pensato riflettuto e che fa soffrire molto perché magari uno si innamora per tre o quattro anni va tutto benissimo e poi cominci a capire che non è così che qualcosa sta cambiando questo tema del tempo e l'amore è importante molto importante molto importante per Irene la sua gestione del tempo la sua percezione del tempo ecco io non vorrei che i presenti pensassero che in questo romanzo si parli soltanto d'amore perché in verità non si parla d'amore sempre e soltanto l'amore è diciamo come una quinta dentro intorno dentro cui insomma è una quinta è un quasi un contenitore come dire dentro quel quale Emanuele Villas inserisce moltissimi temi di attualità e dal dal problema del Mediterraneo al problema dell'ambiente al problema appunto che è un problema da sempre indagato nei suoi lavori del capitalismo di come il capitalismo si è evoluto dell'ipermodernità e anche della cultura perché è un romanzo dentro cui ci sono tantissimi autori da te amati De Che Vedo naturalmente e oltretutto anche il rapporto che Irene in questo caso forse tu intrattieni con questi autori del cuore è un rapporto molto personale molto fisico De Che Vedo lei dice era un brutto era perché uno così brutto poteva permettersi di scrivere certe cose o quando parli di Virginia Woolf per esempio ma quella si poteva anche ammazzare prima insomma ci sono tutte queste battute un po' questo non sacralizzare la letteratura ecco e questo è molto interessante ed è l'operazione che fai sempre nel tuo lavoro quella di mettere in scena un contesto comunque un lutto normalmente un lutto un abbandono e poi inserire appunto questo tuo mondo di pensieri e di ragionamenti soprattutto sulla modernità ecco volevo sapere che per questo è un romanzo ricchissimo comunque sì io chiaro effettivamente il tema dominante è il amore però c'è una quantità di altri temi che aparecen che acabi di dire molto bene il capitalismo il mediterraneo il mediterraneo per esempio quasi il tema è un personaggio quasi in la novela la verità è che per 20 euro che vale la novela hai 50.000 temas è una molto buona compra perché tiene di tutto hai tambien ella Irene le gusta la literatura ha intentato escribir e a lo largo della novela va aparecendo los poetas che a ella le gustano e especialmente un poeta che è molto importante in la storia della literatura spagnola e soprattutto questo poema che si titula che dà la novela è un sonetto di Francisco di Quevedo che si titula Amore constante più allà della morte questo sonetto che è in España io credo in la literatura spagnola io credo che hai due obras diciamo due classiche fondamentali uno è Cervantes e l'altro è Quevedo e questo sonetto di Quevedo lo studiano in i colegi è come Petrarca come Petrarca o quasi come Dante e questo che sono inutile io non credo io credo che hanno una utilità meravigliosa per esempio una gran utilità è l'ausilio psicologico che che è attraverso di che che ci è un amore forte che vence la morte e tu lees il soletto di Quevedo e ti dà la ragione e entusi automattamente te sientes meno solo perché hai leito a qualcuno che pensa che lo che tu pensabas come ipotesi lui anche lo ha pensato e automattamente te sientes meno solo e esa creenza se avirma Irene è una buscadora di bellezza busca la bellezza e utilizza la literatura per alimentare e per satisfacere o per protettare esa búsqueda della bellezza e con eso io quero dire al lettore che la literatura serve per teus propios finti personali nella vita non solo leer literatura non è solo una question di tener cultura di essere una persona educata sino che la literatura è útil per resolver problemi concreti di tua vita una utilità molto più interessante che la di dire che ho leito le 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 una persona culta però è che ha esa utilità io voglio ponerlo di manifiesto nella novela sì l'argomento dell'amore è centrale nel romanzo ma effettivamente ci sono tanti altri argomenti che tu hai elencato perfettamente tra cui il Mediterraneo che è il Mar Mediterraneo che diventa quasi un personaggio insomma un sacco di argomenti devo dire che con 20 euro che costa il romanzo ci sono 50 mila argomenti diversi è proprio un buon investimento comunque lei a Irene piace molto la letteratura ha cercato anche di scrivere delle cose nel i poeti che a lei piacciono di più in particolare Francisco de Chevedo è un suo sonetto che si chiama Amor Costante che appunto dà titolo al libro Amor Costante al di là della morte che è un sonetto fondamentale della letteratura classica spagnola ci sono due opere due capolavori della letteratura classica spagnola che sono Cervantes e Chevedo due autori è un po' come qui Petrarca o addirittura Dante in questo sonetto si descrive questo amore così forte così intenso che riesce a superare a vincere la morte quindi per Irene diventa un'ossessione più volte nel romanzo fa riferimento a questo a questo sonetto perché il marito è morto era questo amore grandissimo perfetto meraviglioso e il fatto che qualcuno come Chevedo Dica abbia detto attraverso il suo sonetto che può un amore così intenso sopravvivere andare al di là della morte a lei rassicura perché trova una conferma c'è da dire che si può fare un buon uso della letteratura si dice sovente che le umanità tutte le lettere insomma è roba inutile io non credo che sia così ha un grande aiuto anche a livello psicologico appunto in questo caso per Irene che attraverso questo sonetto trova conferma di quello che lei insegue lei insegue sempre la bellezza e utilizza sovente la letteratura per soddisfare questa ricerca e sono convinto che la letteratura serve per tante cose a tanti scopi non solo personali di dire ho letto molto quindi sono una persona erudita colta no è anche utile la letteratura per risolvere problemi concreti della tua vita ecco si parlava di amore amore che si ritrova in un'altra coppia ed è di nuovo un grandissimo imperituro amore quello tra Tori e la madre di Marseille che anzi quello è forse l'amore più luminoso di tutto il romanzo cioè è veramente un'unione è un dedicarsi all'altro quasi e lì tra questa coppia entra Roma e Roma e in particolare con un omaggio a Fellini che è fortissimo perché questo Tori questo uomo è un uomo che appunto ha un grande amore per la moglie e un grande amore per Fellini sostanzialmente lui condensa in queste due su queste due persone insomma diversissimo ovviamente rispetto alla sua vita per il grado di relazione che hanno però proprio tutta l'intensità della sua gioia di vivere ecco che relazione c'è tra il rapporto tra il rapporto coniugale tra Tori e la moglie e Irene e Marseille se io chiede se io questa 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 la mia l'intensità di Irene e Marsello tuviese anche antecedenti in i sui padri e nel caso di Marcelo il padre di Marcelo già vivi un amore inmenso per sua moglie stava intentando mettere amore per tutta la novela che tutta la novela tutta la novela la maggior quantità di amore non solo dei due protagoniste ma anche dei due dei protagoniste anche nella storia di Irene il padre e la madre di Irene non 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 i padri di di Marcelo si vivono un amore maravigoso e poi sta la presenza di Federico Fellini nella novela claro io qui in Italia a parlare di Federico Fellini mi sento un po' impostor perché non sono italiano e voi sapete molto più di Fellini che lo che può essere io che non sono più che un fan del cinema di Fellini lo che a me mi passa con Federico Fellini è che i sui film formano parte della mia sentimentalità non è come se io viese se vedo una filmata di Fellini non è come se stuvi vedo una filmata di un director americano o di un director aleman sento una proximità è che Fellini era italiano però per me è come se fosse spagnolo perché lo che tratta mi incumbe di una maniera immediata e molto poderosa e per questo lo ho metto in la novela e hai un homenaggio a Fellini perché Fellini è la felicità della vita è una felicità della vita desbordata e la felicità e la felicità della vita è una felicità e la felicità di una felicità di un sentimento amoroso io in realtà in questa novela lo che le quero dire al lector è qualcosa ben sencilla e il lector già lo sape lo che le quero dire al lector è che il amor è importante è una obietà il lector già sape che il amor è importante che fa un novelista poi busca una serie di ideas una serie di argomenti una serie di personaggi per rafforzare questa idea argomentarla desarrollarla expandirla acrescentarla per convenzire ancora più al lector di che il amor è importante e lo che fa la literatura è ricordare qualcosa che il lector già sape io dico molte volte che una persona che ha risolto sua vita amorosa tiene il 95% di sua vita risolta il 5% che le queda è intentar buscar un lavoro e una casa un lavoro per pagar una casa e già sta perché se ha risolto suo problema amoroso ha risolto su vita sì io volevo che questo amore forte tra Irene e Marcello avesse anche altri precedenti e questo precedente c'è tra i genitori di lui di Marcello un amore molto intenso verso la moglie ho voluto inserire l'amore dappertutto in questo romanzo come potevo qua e là tutto amore amore la maggior quantità di amore possibile ci sono anche i genitori di Irene ma lì invece non è tanto bello perché si divorziano e quindi non è così però invece i genitori di Martello hanno questo amore che è meraviglioso e poi c'è anche la presenza di Fellini che è importante però ecco per me è un po' imbarazzante persino perché sono in Italia quindi io mi sono permesso di scrivere su Fellini perché io sono proprio un appassionato dei suoi film è chiaro che qua voi sapete molto più di Fellini di quello che possa saperne io ma per me i suoi film formano parte della mia vita dei miei sentimenti io posso vedere film di autori americani o tedeschi e ammettere e riconoscere che sono dei bei film però per me Fellini anche se è italiano ma lo vivo quasi come se fosse spagnolo perché questo suo modo potente importante che riflette nei suoi film è la stessa maniera che ho io di pensare di vedere la vita quindi sì ho voluto fare un omaggio a Fellini e soprattutto a questa sua gioia intensa nei confronti della vita e questo in questo romanzo io comunque voglio trasmettere un concetto al lettore una idea che è molto semplice e che il lettore sa già e che l'amore nella vita è importante può sembrare un'ovvietà è così ma qual è il lavoro del romanziere in questo caso attraverso idee storie personaggi cercare di argomentare questa idea convincere ancora di più al lettore ricordare quanto sia importante questo concetto che l'amore è la cosa più importante della vita io dico sempre che qualsiasi persona quando ha risolto i suoi problemi sentimentali ha risolto il 95% dei suoi problemi della sua vita poi l'altro 5% sì dovrà trovarsi un lavoro per pagare un affitto quello che è però la sua vita è risolta se ha trovato l'amore ma dunque abbiamo superato le sette io non so quanto ci ospitano ancora qui però aveva ancora una sollecitazione da lanciare poi vediamo e sì ecco tutta questa catena di innamorati e di innamorate che Irene lascia al suo passaggio perché non ci sono solo uomini con cui lei ha relazioni ma anche donne tre o due se non ricordo e quindi ecco il passaggio di Irene scatena l'amore in qualche modo anche e queste persone sono disposte ad abbandonare tutto il loro passato tutte le loro relazioni presenti per seguire questa specie di sirena e però qui c'è e questo noi lo osserviamo e questo è molto bello dal telefono di Irene che è come congestionato di messaggi Whatsapp che lei non legge perché Irene lei è come dire l'unica cosa che offre ai suoi amanti è il numero della stanza e poi un addio cioè non c'è nient'altro ogni tanto si attarda ad ascoltare forse Giulio il primo amante ma poi il resto la interessa meno o forse le interessa quello che lei scatena nei loro amanti o nelle loro mogli perché è sempre interessata da un punto di vista sentimentale ecco però tutta questa scia di diamanti che restano con un palmo di naso insomma che l'attenderanno per sempre tu ti immagini ecco che tipo di amore è quello è come se lei avesse un ruolo di accendere di nuovo l'idea che l'amore è prioritario e quindi tutti loro restano incantati ma anche dannati da questo passaggio bene ella pensa lo siguiente ella su marido no tiene cuerpo porque ha muerto pero vive en ella entonces a los hombres que conoce es como si casi hiciese una posesión casi diabólica la parte más casi esotérica de la novela en donde claro pero eso el lector tiene que decidir si es que es una fantasía de Irene ella piensa que en el momento esto que voy a decir puede asustar un poco en el momento del orgasmo con otro hombre ella ve a su marido ya consigue ver a su marido claro tú lees eso y dices bueno a ver qué le pasa a esta mujer es verdad eso o es una fantasía o es una justificación para la promiscuidad y de repente ella tiene deseos sexuales en fin muy intensos y muy caprichosos o como se les quiera llamar y necesita construir esta teoría de que vea a su marido y por tanto están justificados estos encuentros amorosos que son absolutamente de aventura de aventura de una noche pues ahí el lector tendrá que decidirlo porque yo allí sí que he dejado mucho margen yo soy un tipo de escritor que le gusta dejar un gran margen al al lector para que juzgue determine intervenga y intervenga en la narración y diga pues no pues esta mujer en realidad esta fantasía es una forma de justificación o diga pues sí puede ser que esté tan enamorada que se crea esta liturgia esta fantasía sí Irene pensa que el marido es muerto y no 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 el cuerpo del marido pero el marido vive todavía en ella y entonces conoce todos estos uosos y avviene esta possession quasi diabolica diciamo la parte più esoterica del romanzo no comunque alla fin fine è il lettore che decide se è una fantasia di Irene perché diciamolo chiaramente quando arriva il momento dell'orgasmo lei in quel momento vede apparire il marito allora il lettore legge questo e dice ma cosa sta succedendo qua in realtà è lei che cerca di giustificare questa promiscuità che cerca di giustificare in qualche modo il fatto di voler soddisfare questo suo deseo sessuale ha bisogno di costruire questa teoria che lo fa solo perché durante l'orgasmo vede il marito o veramente vede il marito perché poi sono avventure tutte passeggeri di botta via e lascio che sia il lettore a decidere questo sia una fantasia o una giustificazione o veramente lei lo vede a me piace sempre lasciare nei miei romanzi questo margine al lettore affinché possa decidere se vuole giustificarla o non vuole giustificarla insomma che possa intervenire anche in qualche maniera in maniera attiva nel romanzo certo ci sarebbe ancora una cosa che appunto mi dispiace rivelare ma in parte però è importante per dare una chiave di lettura a chi affronterà il romanzo e cioè appunto il problema del passato di Irene il passato di Irene che appunto non voglio assolutamente però Irene ha già vissuto un amore precedente e un amore precedente e anche questo è un amore che lei in qualche modo manipola con la sua mente quasi che pur essendo una donna sensualissima mi è venuto da pensare che all'erotismo affida praticamente addirittura come dire proprio la spinta ad agire in realtà è un personaggio molto cerebrale perché almeno questo è quello che ho pensato poi a chiusura di romanzo molto cerebrale perché di tutti questi della carnalità alla fine lei ne vede il consumo ma quello che le serve è poter poi come dire rinserire quell'incontro dentro al suo imaginario così composito allora c'è una parte molto importante della novela che è la che dici che è come gli esseri humani construiamo la nostra memoria del nostro proprio passato chiaro questo è un tema salvaggio tremendo perché quando le persone che hanno di 50 anni per un hombre o una mujer necessita construir la sua memoria che ho ero io in questa vita un chico di 25 anni non lo necessita però una persona di 50 60 anni deve pensare che ho fatto in questa vita che ha sido mia vita e nos mentimos nostri construito una narrazione di nostri nostri vidi a nostro come nos da la gana come queremos no nadie te va no hai una policia della memoria non te va a dire cuidado te stai mintendo los hechos si io che se 1998 me casé nel anno 2000 me dieron un lavoro e cambié de ciudad nel 2004 me divorcié estos son hechos vale digamos que estos si que son objetivables pero como me sentía yo por que me divorcié por que tuve un hijo por que no se que todo esto es subjetivo y armas una narración que tiene el mismo estatuto que la ficción novelesca y aquí hay un problema existencial muy importante porque claro que pasa que nosotros nos creemos firmemente el pasado que nos inventamos nos lo creemos y y hay un traye porque que Anyway es un po que de como nos seres humanos cerchemos de construir la nuestra memoria el nuestro pasado y este argumento es pico por que lo he elegido una persona con más de 50 años porque prima non si ha bisogno di ricostruire la propria vita, la propria memoria a quell'età, a 50-60 anni uno incomincia a porsi la domanda cosa sono stato io, cosa ho fatto io nella vita e cosa succede che il più delle volte ci inganniamo noi stessi perché noi ci creiamo tutta una storia una narrazione come ci piace come ci pare piace e poi non c'è una polizia della memoria che venga a dirti guarda che non è vero quello che stai dicendo, che stai mentendo i fatti sì, i fatti sono realtà che si possono verificare nel 1998 mi sono sposato nel 2000 ho trovato un lavoro e ho cambiato città, nel 2004 ho divorziato questi sono fatti obiettivi e su quelli non c'è verso non si può ingannare poi però ho divorziato sì, ma per quale motivo? perché ho deciso a un certo punto di avere un figlio e qui subentra la soggettività e lì sì che posso mentire mentire a me stesso, inventarmi la narrazione che più mi pare piace e quindi questa parte di tutti noi di ricreare, di costruire la nostra memoria narrativa è quasi come una finzione come la letteratura e questo è un problema esistenziale veramente che colpisce tutti noi noi stessi ci crediamo il passato che vogliamo inventare per noi ancora una nota sulla lingua di Manuel che è una lingua che chi lo conosce è una lingua avvolgentissima ripetitiva un po' incantatoria lui ha questa capacità proprio di farti entrare dentro la testa di questa persona ripetendo anche come un mantra e quindi anche la fatica di lei a volte si sente tanto la lingua è aderente al modo di pensare di Irene ecco a questo proposito magari se avesse voglia di ascoltare una pagina sarebbe molto molto efficace io avevo pensato a questo incipit se la leggo io leggi tu sei in italiano mi bloccate quando no ok Irene pensa se un essere umano vuol fare arte e bellezza della sua memoria chi glielo può impedire chi glielo impedisce quale legge lo impedisce ci sono decreti governativi norme giuridiche ci sono imposte bisogna pagare qualcosa allo Stato per farlo un 15% o un 20% dei guadagni se lo Stato lo venisse a sapere mi ruverebbe il 90% dei miei guadagni non il 90% ma il 99,9% e mi multerebbe e mi perseguirebbe e mi incarcererebbe e mi chiamerebbe antisociale mi chiamerebbe puttana mi brucierebbe viva mi lapiderebbe mi chiamerebbe strega ma che magari mi chiamasse strega e puttana mi direbbe soltanto che sono antisociale donna cattiva ha chiamami donna cattiva donna cattiva con il suo uomo cattivo in cammino verso la fine del mondo sotto la neve il sole la pioggia il tempo il nulla donna cattiva che bello non c'è schiavitù in queste due parole o invece c'è certo che c'è schiavitù e vita sono la stessa cosa sempre vivere è essere schiavo del tempo in cui vivi le sue leggi le sue abitudini i suoi vestiti la sua tecnologia il suo senso del bene del male la sua morale il suo denaro il suo cibo la sua medicina la sua psichiatria la sua industria ideologica perché l'ideologia è un'industria come le altre come l'industria conserviera delle lattine di sardine di sgombro di polpo alla galiziana di calamari al nero di seppia sono mai stati vivi quei calamari neri che escono dalle lattine di calamari al nero di seppia questo è buonissimo chi ne ha scritto questo chi è l'autore che ha scritto queste parole è bellissimo